Pensare altrimenti è il titolo appunto di questo evento che mi onoro di moderare e il titolo dice tutto, è già un programma, pensare altrimenti, pensare diversamente pensare all'opposto di quella che è l'attuale narrazione del mainstream che ti presenta determinati argomenti con lo stesso menu e quindi guardare l'Europa, guardare l'Italia, guardare determinate questioni che siano di carattere economico e politico da un'altra angolazione ecco, oggi in questo convegno, grazie alla porta, al contributo del professore Diego Fusaro abbiamo fatto questo Ciao 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 Ciao